Allora, volevo fare un saluto a tutti gli amici di Honda Web Radio e sicuramente ci vedremo di persona più presto per stare un po' insieme e sicuramente scambiare i miei ghiacchiere. Me lo auguro perché so che ci sono delle persone a casa di questa cosa che sono assolutamente valide. Saluto Stefano e Francesco, saluto tutti, un abbraccio e a presto.